Non aveva né autorizzazione comunale né l'obbligatoria iscrizione all'albo comunale. Una casa di riposo per anziani è stata chiusa dai carabinieri del NAS e del Comando Provinciale di Ragusa. Il provvedimento di chiusura emesso dal sindaco di Ragusa è stato disposto a seguito di un controllo eseguito dagli stessi carabinieri durante l'estate nell'ambito dell'operazione a livello nazionale denominata Estate Tranquilla 2016, organizzata dal Comando Carabinieri Tutela della Salute. Durante il controllo a Ragusa i militari hanno curato che la casa di riposo Villa Garofalo gestita da un 69enne era priva delle necessarie autorizzazioni comunali e per questo motivo i carabinieri hanno inoltrato al sindaco di Ragusa una dettagliata segnalazione con cui si evidenziavano tutte le irregolarità riscontrate nel corso del controllo a seguito della quale il primo cittadino di Ragusa ha emesso un'ordinanza di chiusura dell'attività a cui i militari hanno dato immediata esecuzione. Al momento della chiusura all'interno della struttura erano presenti 30 anziani ospiti che sono stati trasferiti in altri complessi assistenziali in maniera tale da non lasciarli privi di qualunque assistenza sanitaria. L'operazione si inserisce in una più ampia serie di controlli disposti in tutta Italia dal Comando Carabinieri Tutela della Salute e finalizzati a verificare in rispetto della normativa sanitaria nel settore dell'assistenza agli anziani che spesso diventano legnare vittime di speculazioni da parte di soggetti che approfittando del loro stato di bisogno non esitano ad allestire strutture in cui forniscono assistenza senza rispettare tutte le normative.